Poteva finire davvero in tragedia in Irpigna l'ennesimo assalto ai Bancomat ad opera della criminalità foggiana. Questa volta la notte è andata decisamente male ai malviventi intercettati dai carabinieri mentre si affrestavano a colpire la BCC di Flumeri a Sturno. Erano a bordo di una lancia libra. La vettura rubata a Grotta Minarda si è diretta a folle velocità verso la zona industriale del paese. Giunta all'altezza di Contradaia del Gallo come una scheggia impazzita e piombata contro un albero abbattendolo per poi ribaltarsi su se stessa dopo essersi schiantata su un cancello e una barriera di ferro all'ingresso di un deposito agricolo. Due malviventi sono riusciti a fuggire nelle campagne. Un terzo ferito è stato fermato dai carabinieri e affidato alle cure dei sanitari del 118. Si tratta di un 49enne di Orta Nova all'interno della vettura rinvenuto esplosivo ed armi. Sul posto, oltre ai carabinieri di Frigento e Mirabella e Clano, i vigili del fuoco di Grotta Minarda, i volontari della pubblica assistenza di Frigento e gli artificieri dell'arma giunti da Napoli per disinnescare la marmotta esplosiva. Indagini sono in corso per acciuffare gli altri due componenti della banda, che potrebbe essere la stessa entrata in azione sabato notte in pieno centro a Savignano e Orpino, dove in questo caso il colpo è andato però a segno, dove avrà fatto saltare in aria lo sportello automatico del Banco di Credito Cooperativo di Flumeri. Episodi che hanno spinto i carabinieri ad intensificare pattugliamenti e controlli. L'operazione della scorsa notte nasce proprio dall'indagine sinergica tra le varie compagnie e stazioni che presidiano il territorio.